e c'è un furgone con della gente con dei mitra, delle pistole in fretta, c'è gente qua con i tabucci c'è gente che scappava con i mitra, le pistole quanta persone sono? guardi, almeno una decina di persone c'erano hanno messo pure a fuoco hanno messo pure a fuoco hanno bloccato la strada pure qua, non ci può passare poizia sì, ciao, è la Sicur Transport mi siamo sotto attacco grazie 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 grazie